oddio sembra una scema inizio il video inizio il video inizio il video oh no che cacchio so ok io all'inizio il video non lo volevo fare perchè ormai dall'assenza dall'assenza cioè è inutile che lo faccio ma non ci riesco ciao a tutti io sono Asia quest'oggi siamo in un vlog e non è che voglio leggere le domande vi chiedo gentilmente di scrivermi delle domande qua sotto nei commenti io risponderò nel prossimo vlog cioè lunedì prossimo oppure domani oppure domani oppure sabato oppure venerdì oppure giovedì risponderò vi assuro che risponderò risponderò e comunque scusate per l'assenza mi dispiace molto ma molto ma molto ma molto ma molto ma molto cioè non so come non so come descriverlo perchè ho avuto un bel po' di compiti non ho mai avuto tempo libro e poi domani c'ho la verifica di storia quindi la prossima volta ce l'ho di geografia di matematica di scienze di arte immagine no di arte immagine non ci sono le verifiche di italiano cioè anche di grammatica e questa cosa è molto brutta comunque passiamo ai fatti 6 vi prego di scrivermi qua sotto nei commenti delle domande a cui risponderò comunque risponderò perchè so che risponderò perchè io sono brava e rispondo no a parte visto io risponderò vi dico che risponderò e vi dico che risponderò alle domande sperando cioè io non posso farvelo uscire qua sotto come tutti gli altri youtuber perchè non riesco non riesco non riesco a trasportare le domande qua sotto nei commenti a qua comunque io il mio profilo facebook è asia.com proprio asia.com il mio profilo facebook è quello anche se non c'è una foto mia comunque se volete chiedetemi l'amicizia non c'è una foto mia però non c'è la foto mia se volete andate nel link in descrizione anzi non ve lo lascio il link però vi dico che è asia.com e niente e volevo solo dirvi questo piccolo avviso e ciao